Shabbat shalom a tutti e benvenuti al commento dell'Aftarah di Terumah. L'Aftarah di questa settimana è presa dal primo libro dei Re, capitolo 5, versetto 6, al capitolo 6, versetto 13. Come al solito ci soffermiamo su alcuni versetti. Nella lettura giunta si parla dell'edificazione del santuario di Gerusalemme da parte di Salomone. Furono anche preparati il legname, ezzim e le pietre, eavanim, per la costruzione del tempio. In evidente parallelismo al contenuto della parasha di Terumah che spiega la costruzione del tabernacolo che accompagnò il popo di Israele nel deserto. Nel capitolo 6, versetto 12, leggiamo Quanto a questa casa che tu edifichi, Bonè, in ebraico, se tu cammini secondo le mie leggi, se metti in pratica i miei precetti, osservi e segni tutti i miei comandamenti, e segui tutti i miei comandamenti, io confermerò in tuo favore la promessa che feci a Davide, tuo padre. Abiterò in mezzo ai figli Israele, beni Israele, e non abbandonerò il mio popolo Israele. Il versetto 7, sempre dal capitolo 6, vediamo che il termine costruire, costruzione, per la sua costruzione, bei ben noto, si usarono pietre e ven, in ebraico pietra si dice e ven, lavorate intere. E ven, in ebraico, appunto, che esprime la pietra su cui è fondata la costruzione, è formata da queste lettere, Aleph, Bet, Nun. Queste ultime due lettere, Ben, Ben, Bet, Nun, formano la parola figlio, quindi ci ricorda che costruire, edificare un tempio, costruire, edificare una costruzione, non è altro che poi costruire il vero tempio, che è il figlio, cioè è il formare il figlio di Dio interiormente, figura del tempio, appunto, interiore, che ognuno di noi deve costruire. E qual è questo tempio che deve costruire? Proprio si costruisce mediante la relazione Av, prime due lettere di pietra, che è padre, e Ben, figlio. Nella relazione padre-figlio avviene la vera costruzione del tempio, cioè nella figliolanza divina, nell'essere noi, coloro che ci rivolgiamo a Dio, chiamandolo padre, come appunto Gesù ci ha insegnato, e in quello avviene la vera costruzione dell'uomo interiore, del figlio di Dio. Ricordiamo in seconda a Samuele che il Signore disse a Davide quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu dormirai con i tuoi padri, io susciterò un tuo discendente dopo di te, uscito dalle tue viscere, e renderò stabile il suo regno. Io sarò per lui padre, ed egli sarà per me figlio. fin dal regno di Davide, ecco, il Signore vuole questo tempio in cui, ecco, il figlio riconosce il padre. Dalla discendente naturalmente di Salomone verrà il Cristo, il vero tempio, è in lui che troviamo la vera relazione tra il padre e il figlio, lui ci insegna come rapportarci al padre, lui che sarà il tempio distrutto nella morte, riedificato nella risurrezione per poter far abitare il nuovo Israele, noi, popolo di battezzati, popolo di figli di Dio, che dimorano in Cristo, figli di Dio, già da questa terra, per goderlo poi in cielo, cioè nei nuovi cieli, nella nuova terra in cui Dio abiterà in mezzo al suo popolo, Dio abiterà nelle tende degli uomini, come appunto afferma l'Apocalisse, delle capanne degli uomini, cioè nella loro dimora fragile, e qui richiama il mistero naturalmente dell'increazione, Dio che viene ad abitare, Shakan, in ognuno di noi, che è appunto il vero tempio. Ricordiamo che il tempio, il Bet Hamikdash, è formato appunto da queste parole, Bet, Ba'it, che appunto, che sono le lettere Bet, Bet, Yod e Tav, sono le lettere di casa, quindi possiamo dire che la chiesa non è altro che questo Bet Hamikdash, questa casa del santo, del santo dei santi, che è appunto la zona più interna del tempio. Vediamo che anche nelle lettere noi riconosciamo, ecco, Bet, che è appunto la dualità, la creazione, l'essere creato, Yod, il fondamento della creazione, il seme che nella creazione diventerà poi il frutto, mediante appunto la Tav, che la croce, nell'anticamente la croce, quel seme che muore e che poi risorgerà, e risorgeremo appunto nel, poi, nel, nel figlio di Dio, risorgeremo come il figlio di Dio, e quindi questo Ba'it, ecco, ci ricorda appunto proprio la vera chiesa, appunto Bet, la struttura, sia esteriore, che appunto poi interiore, ognuno di noi, lo Yod, che è il seme all'interno di questo uomo, e infine al di sopra del Tempio, appunto delle chiese, c'è il segno della croce, è attraverso questo segno che noi, ecco, giungiamo poi alla risurrezione. Bene, alla prossima, aftara, Shabbat Shalom, a tutti.